buon appetito ragazzi benvenuti in questo nuovo video, sono Crashlygame e oggi siamo qui su Minecraft Big Dig, l'episodio 4, sì, e in ogni volta eravamo qui a prendere questi ultimi minerali, ovvero qui c'è ferro, qui c'è oro, ovvero qui con ferro, sì, quindi prendiamo anche questo oro, e qui che succede? Questo non mi ricordo cos'è, la patita dovrebbe essere, ah, Lender Dust, quindi prendiamo anche Lender Dust, questo non so cos'è, forse è il classico alluminio, no, è Ferrous Ore, non so cos'è sia, ma poi vedremo a cosa serviranno tutti questi minerali che prendiamo, ah, qui c'è sempre il soldo, copper, che noi lo prendiamo, ma non è che ce ne serve tanto, ce ne abbiamo già abbastanza in casa, le prendiamo, vabbè, già il cuore siamo fuori, lasciamo così dai, poi, prendiamo questo qui che è sempre il, il, il Lender Dust, non ricordo come si chiama, e, oddio, ero un po' qua, questa è la nostra, c'è un caverna artificiale, ahia, dov'è il sole? adesso mi sento a calare il sole, forse c'è una grotta, no, come non ho detto, e dai, scatta, ah no, sta mangiando di fame, non c'è dove non corro, mangia, mangia, ti fa bene, ok, amiamoci sempre di spada, ah, ancora la nostra casa è lì, oddio, c'è ancora del parico materiale da prendere, allora, prendo questo minerale, perché, vuoi sapere che cos'è, lo prendiamo, e, oh no, moriremo qua, moriremo qua, ok, scherzo, usiamo il, oddio, il, pietrisco, vabbè, la cobs, e, ce ne saliamo nella nostra, casa provvisoria, che, ora, forse, in questo episodio, insieme con la costruzione della casa, ok, piccola allargata, mettiamo qui i minerali, il ferro grezzo, landed dust, lana nera, ve la mettiamo dove mi serve, forse la dobbiamo cuocere davvero, vediamo, vediamo, il ferro la prendiamo, e si, si cuociono anche qua e là, quindi mettiamo qui il ferro, andremo a dormire, allora, ora io, non so perché ho 8 main items acceso, ma, devo, facciamo, vedere, gli oggetti che ci sono, se io faccio la, tipo la U, ah no, l'ho preso, ok, non prendo, cose da, lo, no, tipo, va a dire come, oddio, come si craftano, perché, non me lo dici, vediamo se qua su option c'è tipo, utili di mod, eccola qua, ok, ora possiamo vedere come si craftano, perfetto, ragazzi, tutto in diretta, non faccio vedere che prendo oggetti, vediamo quando siamo, il timer, 11 minuti, allora, in questo tempo, in questo frattempo, possiamo, oh te, che sato che ho fatto, what the, allora, possiamo pensare come fare la casa, la casa, non ho un'idea ben precisa, ma, possiamo improvvisare, credo che mi servirà, un bel po' di, un bel po' di cobblestone, e quindi inizio a prenderla, ok, prendiamo questo cobblestone, qui, qui, chiudiamo, lo facciamo con l'impieda, dai, che almeno, con l'impieda non lo voglio consumare, oh, è entrato la redstone, lo appendiamo mentre, che ci siamo, perfettico, continuiamo con la peste della cobblestone, non devi not, possiamo anche dormire, ma che spawnano gli animali, che idioti, crush game, hit all, allora, vediamo se ci sono mostri, andiamoci di spade in ferro, ok, non vedo nessuno, quindi possiamo anche risalire, la montagna, ah, tanto io qui, mi dimentico sempre di farlo, casa, 1, metto così, per vedere, non mi voglio perdere, invece, in cima, faremo la casa finale, tanto ora, mi butto, ok, non mi sono fatto niente, per fortuna, ok, mi ha spaventato, poi tu di zombie, aha, ecco, da dove vieni, vero, dice il megavernica, allora, cos'è quello? oh, mio, dio, è un fottuto portale, portale strano, è un fottuto portale, par Dio, nel prossimo episodio, forse ci andremo, ma prima voglio fare la casa, non abbiamo molto tempo per farla, quindi, insieme, la chiesa, ah, non è piatto come speravo, perché non è piatto come speravo? qui siamo sopra una montagna, lo dovremmo fare qua, in questo, angolo diciamo, ma io non ho una pala, mi faccio una crafting table veloce veloce, allora, allora, mettiamolo qua, e ci facciamo una, vedi, non ci facciamo i stick, e ci facciamo, una pala, in, cobblestone, tanto, spreco solo una, prendi, ok, iniziamo con, il distruggerlo, allora, Grazie per la visione!